I medici del 118, vale a dire 35 medici di tutte le marche, i convenzionati a tempo indeterminati, vogliono protestare perché vogliono rivendicare i loro diritti, vogliono essere equiparati ai medici dipendenti. Svolgiamo lo stesso lavoro sulle ambulanze, salviamo le vite come tutti quanti gli altri e vogliamo gli stessi diritti. Se non si fa questo corriamo un rischio enorme, il depauperamento di questa enorme risorsa. Praticamente corriamo il rischio che tra qualche tempo non ci saranno più i medici che verranno a fare l'emergenza. Non verrà più nessuno nelle vostre case a salvarvi.